Questa è la parte nuova, qui è la parte della sala esposizione. Prego, prego. Grazie. Benvengano, eh. Perché hanno gente qui. Eh, no, non voglio dire. Vedi, dai, un po' ci sono. Poi se c'è qualsiasi domanda potete chiedere. Quella è il raccone. C'è anche una giornalista, quindi... Viene. Sì, posso far nascondere. Poi io non sono uno che cerca... Faccio la pittura proprio per passione, non per soldi. Anzi, non per curioso di chiedere i soldi. E un altro... Bene, bene. Bello. Questo che è quello che avete fatto? Sì, la madonna di Donato. Eh, la mia? Sì, sì, sì. Io davvero a me non fare i piccnici, io voglio che non faccio un quadro della sua madonna. E questo qual è? L'Ulona, sì. Però qui in Valle. Qui questa cosa qui, quella che c'è, è il quale inizia la sua vita. Sì, sì, sì. E qui... Dopo non so... Qui vedo che ho proprio più questo... Sì, sì. Sì, sì... Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. È strano, non lo ricordavo perché è tanto tempo che sono qua. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 Sì, 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 sì. Grazie. Grazie. Oh, tutto bene? Dai, fino a che ci si vede va bene. Eh sì, il mondo è piccolo. Scusa. Grazie. Grazie.